Adesso ti dico perché sei qui, sei qui perché hai intuito che stava per accadere qualcosa, qualcosa che muori dalla voglia di scoprire, qualcosa di cui vuoi far parte fino in fondo. Ti capisco, ed è per questo che sono qui stasera, per farti entrare nel mio mondo. Il mondo degli anni 2000 Dieci, cento, mille, mille, mille La mia, la mia, la mia, la mia, la mia.